Adotta un'aula è il progetto di raccolta fondi lanciato dalla dirigente scolastica Anna Vassallo del liceo Alfonso Gatto di Agropoli. L'iniziativa è stata realizzata con lo scopo di raccogliere fondi tramite il crowdfunding per apportare migliorie nella sede del liceo di via Pio X dove si trovano gli indirizzi classico e musicale visti gli ambienti scolastici poco adeguati. Quindi l'obiettivo del progetto è quello dell'urgente riqualificazione delle aule e precisamente alla sostituzione degli infissi e delle porte di tutte le aule dell'edificio ma si pone anche l'obiettivo di garantire agli studenti nuovi accoglienti spazi di apprendimento. Sarà possibile partecipare alla raccolta fondi donando un libero contributo a mezzo versamento sul seguente IBAN IT 73 B 070 66 76 02 00 00 41 46 51 intestandolo al liceo statale Alfonso Gatto specificando come causale progetto adotta un'aula. Ognuno versando un contributo può impegnarsi a sostenere la scuola in questa importante iniziativa. La raccolta fondi si configura come Reward Based ovvero basata sul riconoscimento di una ricompensa per l'azione virtuosa che ciascuno vorrà compiere. Con un finanziamento di almeno 100 euro si riceverà una lettera di ringraziamento dalla scuola e una citazione sul sito istituzionale della scuola. Con un finanziamento di almeno 500 euro si riceverà una lettera di ringraziamento e sarà possibile inserire il proprio nome o il logo dell'azienda sul sito istituzionale per un anno. Con un finanziamento di almeno 2000 euro sarà posta una targa esterna per 5 anni davanti all'aula con il nome del donatore. Le donazioni possono essere effettuate anche con esplicita richiesta di mantenere l'anonimato e in tal caso esse sono del tutto libere poiché non prevedono riconoscimenti pubblici. Una bella sfida dunque a cui si spera parteciperanno in molti al fine di garantire ai ragazzi agropolesi la possibilità di crescere nel miglior ambiente scolastico possibile.